Il medico Il medico mi ha detto che mio zio stava riposando serenamente, doveva continuare a fare la terapia che stava facendo almeno per un'altra decina di giorni. Il medico Non dico i 10 giusti della Bibbia, ma se una persona in quei 5 giorni si fosse alzata e avesse detto, ma cosa stiamo facendo?